Un 2021 chiuso in bellezza per Stellantis in Brasile, doppietta di SUV più venduti con Jeep Renegade, 73.924 immatricolazioni, e nuova Compass, 70.918, e ciascuno dei modelli con un primato nei rispettivi segmenti. Il Renegade con una quota del 16% nel segmento B SUV e la Compass con una quota del 48,5% nei C-SUV, ed è proprio dal Brasile che giungono le prime immagini senza filtri del restyling della Renegade, sebbene alcuni dettagli siano ancora da scoprire, e bisognerà capire se questo aggiornamento 2022 arriverà anche in Europa, la Renegade brasiliana presenta delle novità su frontale e coda. In particolare, si evincono paraurti modificati, la griglia anteriore a 7 feritoie con altezza ridotta e i fendi nebbia ridisegnati. Le foto chiaramente si riferiscono alla versione Trailhawk, specifica per lo Froad, quello più votato al fuoristrada per intenderci. Cosa cambia con il restyling di Jeep Renegade? Iniziamo col dire che su questo modello la calandra ha una forma leggermente ridisegnata, così come i fari con luci diurni a LED di forma circolare che incorporano la funzione di indicatore di direzione. Resta da capire se siano novità riservate a questa versione, specifica per lo Froad, oppure se sarà così su tutti gli allestimenti. Anche al posteriore vengono proposti dei fari rinnovati, e cambiamenti li troviamo anche all'interno dell'abitacolo, con l'adozione di un volante dal design modificato e di un nuovo display digitale, che sostituisce la strumentazione analogica. L'infotainment dovrebbe invece mantenere lo schermo attuale da 8,4 pollici. Parlando di motori, questa versione riservata al mercato sudamericano introduce anche un nuovo propulsore, denominato T270 Turbo Flex, disponibile in versione 2 e 4 ruote motrici, anche nella variante tra i Lauc, ma non lo vedremo in ogni caso in Europa. Jeep Renegade alla conquista del Brasile Ad ottobre Stellantis ha raggiunto una quota record in Brasile, con un 8,8% e, da inizio anno, un 7,5%. Prendendo come riferimento soltanto il segmento dei SUV, il vantaggio è aumentato del 22,3%, con Renegade e Compass che sono i SUV più venduti nel grande paese sudamericano. Se sei interessato ad una Jeep Renegade usata vieni a trovarci sul nostro sito. Ti aspettiamo su Brumbrum. Grazie a tutti.